Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, rieccoci qui anche oggi ore 13.30 come sempre per parlare insieme di Fantacalcio. Nei tre giorni precedenti abbiamo visto insieme i nomi da prendere, da aspettare, da lasciare tramite scambio svincolo al Fantacalcio. Oggi iniziamo invece ad occuparci del ventesimo turno di campionato. Andremo ad analizzare le dieci partite di questa prima giornata del girono di ritorno. Domani ovviamente arrivano anche gli indici di schierabilità e dopo domani, sabato mattina sul presto, arriveranno anche le top 11. Oggi ci saranno altre live dedicate ancora agli scambi, sia qui sia sulla piattaforma Viola. Domani e dopodomani invece live dedicate esclusivamente ai vostri dubbi di formazione. Se non l'avete ancora fatto mi raccomando like al video ma soprattutto iscrivetevi qui sotto al canale. È gratis però vi posso assicurare che è un qualcosa che aiuta tantissimo questo canale a crescere, quindi mi raccomando, grazie mille. È anche gratis registrarsi su Starks. Trovate il link qui sotto in descrizione. Starks è la prima piattaforma in Italia dove abbiamo la possibilità di acquistare i token dei nostri calciatori preferiti. Ogni tot settimana arrivano sempre nuovi nomi molto interessanti su Starks. È finalmente da qualche settimana iniziato anche il gioco, sia a livello stagionale sia tornei bisettimanali, quindi ogni due settimane c'è la possibilità per i nuovi utenti di entrare e di partecipare. E poi c'è sempre la promo attiva che a fronte di un deposito di almeno 20 euro ve ne regalano 15. In questo modo avete la possibilità poi di prendere i primi token e di giocare contro tutti gli altri. Il link è qui sotto, la registrazione è gratuita, vi aspettiamo, grazie mille. Ma adesso andiamo a spostarci su Fantalab e partiamo dall'analisi della prima partita, quella tra Genua e Torino che si disputerà appunto sabato. Ed eccoci qui su Fantalab, tra l'altro ragazzi stanno per arrivare un sacco di novità, sia dedicata all'asta di riparazione, sia più in generale per quanto riguarda il sito. È stata aggiunta anche una sezione tutorial, FAQ, molto utile. Arriveranno un sacco di novità soprattutto poi per la prossima estate, quindi mi raccomando se non siete ancora registrati su Fantalab fatelo perché ci sono un sacco di vantaggi sia per l'utente normale registrato gratis e sia poi per chi decide di fare la premium col codice sconto qui sotto 999, siete a posto 12 mesi e avete un sacco di roba soprattutto appunto per le aste. Genua-Torino, andiamo un po' ad analizzare le fantamedie voto delle due squadre e soprattutto cerchiamo di capire che tipo di partita sarà. Il Torino ultimamente è una squadra che concede sempre meno agli avversari, nelle ultime 5 è solamente una sconfitta. C'è un buongiorno in stato di grazia, lo abbiamo visto sia pericoloso in chiave bonus ma anche ovviamente molto solido a livello difensivo. I compagni di reparto di buongiorno e lo stesso Milinkovic-Savic, direi che sono in crescita. Fino a qualche settimana fa Milinkovic aveva dato qualche segnale di incertezza, nelle ultime invece direi che si è ripreso bene anche lui. C'è un Vlasic che sta crescendo bene, i bonus di Zapata e di Sanabria che si stanno alternando abbastanza con Costanza e un Bellanova che sulle fasce sta piano piano anche lui aumentando di livello. Dall'altra parte abbiamo un Genoa che deve ritrovare il miglior reteghi, ne abbiamo parlato tanto nei video dei giorni scorsi. C'è Gudmundson assolutamente in stato di grazia, nome ormai da schierare sempre e comunque a prescindere dall'avversario. Ecco, poi adesso secondo me il tema diventa la difesa del Genoa perché la partenza di Dragusin sicuramente lì dietro apre, non dico una voragine, ma sicuramente apre qualche incertezza che dovrà essere colmata da un lato da Gilardino e da un lato sicuramente poi dalla società sul mercato. Genoa-Turino dovrebbe essere partita da Under, mi stupirei se ci fossero tanti bonus perché comunque anche Martinez in casa e non solo sta dimostrando di essere un portiere affidabile. Potrebbe essere una partita dai ritmi soprattutto nella prima frazione abbastanza bassi, si sta giocando tanto in questo periodo quindi difficile vedere partite spettacolari. Potrebbe essere una partita decisa da degli episodi o su calcio piazzato o da delle giocate estemporanee di giocatori di maggior talento. Gudmundson ad esempio da una parte ma anche occhio a Malinoski, a Messias e a Reteghi e dall'altra nel Torino ovviamente i tre davanti, Vlasic, Sanabria, Zapata o magari perché no appunto un'altra situazione da calcio piazzato. In ottica fantacalcio i due portieri sono comunque abbastanza schierabili e allo stesso tempo, ripeto, secondo me non vedremo così tanti bonus. Poi domani con gli indici entriamo un po' più nel dettaglio. Napoli-Salerenitana, un Napoli, anche questa si giocherà sabato, come sapete, un Napoli che arriva da un periodo veramente negativo. Nelle ultime cinque partite è solamente una vittoria per i campioni in carica dell'anno scorso. La Salerenitana qualche segnale di risveglio lo ha dato, anche se credo che la sferzata decisiva arriverà poi dal mercato di Sabatini di questo mese di gennaio. Nella Salerenitana resto convinto che, tolto che Andreva, sia difficile andare a indovinare dei bonus in questo momento, mentre invece per quanto riguarda il Napoli mi aspetto una risposta molto importante dei giocatori più rappresentativi della squadra di Mazzarri. Mi aspetto molto da Kvara in questa partita, mi aspetto molto da Di Lorenzo in questa partita e secondo me uno tra Raspadori, Politano e perché no anche un Lindstrom dalla panchina potrebbero risultare decisivi o nella prima o nella seconda frazione di gara. Zelinski è un po' un grande punto interrogativo, non sappiamo ancora quello che succederà da qui a fine stagione, sappiamo che ad oggi non ha voluto rinnovare il contratto, sembra ormai essere il promesso dell'Inter per la prossima estate e sappiamo anche che c'è Samarzic in arrivo a Napoli. Quindi è una situazione abbastanza spinosa, ne abbiamo parlato anche per quanto riguarda gli scambi nei giorni scorsi, le risposte principali io me le aspetto appunto da chi giocherà lì davanti. È un Napoli che per me deve vincere a tutti i costi, a prescindere da chi siede in panchina e a prescindere anche dalle scelte che farà. Questo Napoli a livello di Rosa è troppo superiore rispetto alla Salernitana per non fare tre punti. Napoli favorito, se non dovesse arrivare alla vittoria del Napoli io credo che sarebbe già giusto cambiare appunto l'allenatore. Verona-Empoli, questa è una partita secondo me molto importante per quanto riguarda ovviamente le zone basse e questo è oggettivo a livello di salvezza perché abbiamo un Verona che nelle ultime cinque ha vinto solamente una volta e abbiamo un Empoli che ne ha pareggiato i due ma ha perso i tre e non ha mai vinto nelle ultime cinque. Fantacalcisticamente queste sono due squadre però molto diverse secondo me perché da un lato abbiamo l'Empoli che fin qui ha veramente dato poco a questo fantacalcio qualcosina caputo però poi il nulla totale, Cambiaghi male, Baldanzi male, i centrocampisti fanno pochi gol, i difensori non sono difensori da bonus eccetera eccetera. Il Verona invece nonostante la situazione deficitare in classifica secondo me qualche nome ancora interessante al fantacalcio lo ha. Al di là di Ingonge vedremo che fine farà ma in questa partita si schiera senza alcun dubbio. Lì davanti Djuric o Henry sono comunque dei nomi che nelle ultime giornate a fasi alterne qualcosa di buono hanno fatto. Suslov è un giocatore che fantacalcisticamente può essere uno dei slot scommessa più interessanti da qui alla fine, slot scommessa settimo, ottavo non di più per ora. E poi c'è quel Mboula che giocherà le prossime due a meno di imprevisti grazie alla squalifica di Lazzovic e quel Mboula lì secondo me si è recuperato dagli infortuni, dai problemi fisici che ha avuto in questa prima parte di stagione resta quel nome di cui abbiamo parlato quest'estate cioè quel giocatore che ha le potenzialità per fare qualche gol e anche qualche assist. Un assist lo ha già fatto, gol non lo ha ancora fatto però è una bella scommessa per questa giornata Mboula. Se non avete grandi alternative secondo me si può anche provare. A livello difensivo invece starei anche qui lontano dal Verona perché Doig fin qui male, Terracciano è andato via, Faraoni fin qui male. Insomma sono due squadre che soprattutto difensivamente non mi ispirano assolutamente fiducia. Ricordiamoci che il Verona oltre a Terracciano ha venduto anche Yen all'Atalanta. Verona leggermente favorito in questo match ma potrebbe uscire fuori anche un pareggio. Monza-Inter. L'Inter non è più l'Inter di qualche settimana fa. Se avete seguito le partite avete visto che sì l'Inter vince nelle ultime cinque o comunque quattro vittorie ma non è quella squadra che dominava l'avversario come fino a più o meno metà dicembre. Il Monza è una squadra che può avere delle armi per mettere in difficoltà la squadra di Inzaghi. Sarà interessante vedere lì davanti come si muoveranno i tre del Monza. Mota, Carboni, Colpani. Qui Fantalab ci fa vedere Colpani trequartista centrale con Carboni e Mota punte. Magari invece sappiamo che solitamente giocano Colpani e Carboni trequartisti con Mota davanti e questo ha portato un po' più lontano dalla porta appunto Colpani. Ma al di là di questo secondo me il Monza può fare una buona partita contro l'Inter. Inter che ovviamente resta favorita. Il Monza fin qui contro le grandi ha faticato abbastanza soprattutto non tanto a livello di gioco ma in termini di risultati. Però anche all'andata se vi ricordate Inter-Monza per un 50-55 minuti avevamo visto un buon Monza poi l'Inter l'aveva vinto e tra l'altro lì si erano visti i primi sprazzi di classe e di talento proprio di Colpani. L'Inter ovviamente è la squadra su cui punterà ancora abbastanza in blocco al fantacalcio. I due davanti Turam Lautaro, i due esterni Danfres Di Marco a livello difensivo con Sommer, Acerbi, Pavardo e Bastoni siamo abbastanza tranquilli e anche a centro campo i tre titolari più frattesi fuori sono tutti nomi che comunque sono da fantacalcio. Quindi l'Inter resta una delle poche squadre su cui si può fare un blocco di 4-5 giocatori anche nella stessa giornata però ripeto non è ancora non è più l'Inter di un mese 40 giorni fa. Magari semplicemente un discorso fisico ci sta era fisiologico e magari tra due tre settimane rivedremo l'Inter di un mese fa e potrebbe anche essere un qualcosa di ragionato e pensato poi per il discorso Champions League. Inter favorito ma occhio partita tutt'altro che scontata. Lazio-Lecce. Piano piano io direi che la Lazio si sta riprendendo. Io vi ho detto che secondo me il vero campionato della Lazio inizierà poi quando la Lazio avrà solamente una competizione al di là della Coppa Italia che a livello di fatiche non toglie tantissimo. Comunque la vittoria nel derby è importante soprattutto da un punto di vista psicologico per Sarri, per la squadra, per Zaccani e per l'ambiente in generale e la Lazio arriva comunque da tre vittorie consecutive. La Lazio contro Lecce ha tutto per fare la quarta vittoria consecutiva e anche qua mi aspetto delle risposte importanti dai giocatori più rappresentativi in casa Lazio. Quindi Zaccani, il Tati Castellanos, Felipe Anderson, occhio anche a Luis Alberto rientrante dall'infortunio e finalmente spero di vedere un Romagnoli lì dietro in difesa che può diventare nuovamente nella seconda parte di campionato una garanzia da modificatore. Su Lecce ragazzi, io confermo quanto vi ho detto nelle ultime settimane, poi magari questa faranno due gol, Christovic e due gol strefezza, però indicativamente tolto Oden che resta secondo me il jolly tutto fare che può giocare sia nei tre davanti sia nei tre a centro campo, puntare su un giocatore offensivo di questa squadra oggi è davvero difficile. Ho visto un Baschirotto in crescita, Falcone resta comunque un portiere abbastanza affidabile, Gallo resta un buon low cost affidabile, però in questa gara andrei più che altro a puntare sui giocatori della Lazio, una Lazio che appunto vedo favorita. Cagliari-Bologna, Cagliari che è veramente falcidiato dagli infortuni, al di là di Luvumbo in Coppa d'Africa, tanti giocatori uno dopo l'altro si stanno fermando, ultimo ma non ultimo per importanza Oristanio che stava comunque facendo bene ma adesso ne avrà per un mese e mezzo, due mesi circa. Lì davanti dovrebbero per forza di cose giocare Pavoletti e Petagna, anche perché anche la Padula non era il meglio, Viola probabilmente dietro le punte, però secondo me in questa squadra senza Oristanio e senza Luvumbo manca un po' di qualità lì davanti. A livello difensivo qualche miglioramento rispetto all'inizio campionato si è visto, soprattutto grazie alla crescita di Dossena e all'affidabilità di Zappe e di Augello, però secondo me il Cagliari fatica, faticherà almeno fino al ritorno di Luvumbo lì davanti. Il Bologna dovrà giocare senza Zirkze ed è un'assenza importante, però questo Bologna se gioca da Bologna ha tutto per fare punti anche a Cagliari. Il Bologna ha perso in Coppa Italia contro la Fiorentina ai rigori, però il Bologna forse ai punti meritava anche di vincere, tante occasioni fallite sia per la bravura di Christensen sia anche per demerito degli attaccanti del Bologna. Io nel Bologna mi aspetto intanto una buona prestazione come sembra di Ferguson, che torna lì sulla tre quarti al centro, ma soprattutto voglio delle risposte da Orsolini, che come detto deve dimostrare in questo mese di gennaio di essere un plus per questa squadra e non un minus, e allo stesso tempo Posh, al di là del rigore sbagliato, che non ci deve interessare in ottica fantacalcio, però diciamo che deve tornare quello dell'anno scorso, innanzitutto a livello di prestazioni e poi magari anche qualche bonus non sarebbe male. Sarà interessante vedere lì dietro chi giocherà, probabilmente Calafiori Böck, ma occhio anche eventualmente ad altre scelte di Motta, però ripeto, secondo me questa è una gara molto importante soprattutto per capire il futuro del Bologna, perché la battuta d'arresto ci può stare contro l'Udinese, il pareggio contro il Genoa è un altro indizio che non mi piace molto, la prestazione contro la Fiorentina è stata una prestazione tutto sommato positiva, ma comunque alla fine hanno perso, adesso col Cagliari devono tornare ad arrivare i tre punti, altrimenti il Bologna rischia di essere una bella favola, ma senza lieto fine. Andiamo avanti, Fiorentina-Udinese, qui io voglio delle risposte da Buonaventura, perché sono un po' di giornate che non fa bonus, Buonaventura al di là del rigore fallito, devo ancora capire perché lo ha calciato, dato che abbiamo visto anche in Coppa Italia che comunque gente che sa calciare i rigori, la Fiorentina li aveva, ma mi aspetto delle risposte da Buonaventura e da Beltran, soprattutto da loro due, perché poi per me Brecalo, Iconei, Barak non sono nomi su cui io ho puntato e su cui punterei da qui in poi al fantacalcio, tra l'altro alcuni di questi potrebbero anche lasciare la Serie A, vedremo se arriva Angonge eccetera eccetera. Difensivamente si rileva una importante crescita di rendimento di Milenkovic, di cui però ancora non mi fido molto, Martinez Quarta bene, Biraghi Cagliode abbastanza affidabili. Nell'Udinese importante Pereira ovviamente che è il nome garanzia e Lucca lì davanti, ma molto importante la crescita di Lovric. Come potete vedere se io guardo la media generale, Lovric 5.91, ma se guardo la media delle ultime 5, Lovric 6.40. A dimostrazione che comunque il trend è positivo, è arrivato un assist nell'ultima giornata e secondo me anche importante vedere piano piano anche la crescita di Camarà, perché sugli esterni l'Udinese piano piano sta crescendo. Questa è una gara dove ovviamente vedo la Fiorentina favorita, ma dove tutto sommato secondo me l'Udinese se la giocherà fino alla fine. La Fiorentina vintrà 3 nell'ultima 5, l'Udinese solamente una. Ripeto, Fiorentina favorita, però occhio perché potrebbe essere una partita più equilibrata delle previste. Passiamo a Milan-Roma e qua secondo me è interessante mettere magari le ultime 5 a livello di fantamedia vuoto, perché come vedete nella Roma ragazzi, tolto di bala, giocatori in verde non ce ne sono nelle ultime 5 e se andiamo a vedere la fantamedia generale vediamo che si salvano solamente Lucao e Mancini. Questo che cosa ci dice? Ci dice semplicemente quello che vi dico ogni volta. C'è una Roma con Di Bala, c'è una Roma senza Di Bala. Però Di Bala ieri è uscito per l'infortunio, forse si è fermato in tempo. Monitoriamo la situazione di Di Bala perché Milan-Roma con una Roma che già contro le Big fa fatica, senza Di Bala, non dico che la vedo a senso unico, ma quasi. Vedo il Milan nettamente favorito. Un Roma con Di Bala invece ha le carte per potersela giocare anche a San Siro. Per quanto invece riguarda il Milan, nelle ultime 5 vediamo un rendimento positivo soprattutto per quanto riguarda Giroud e Pulisic. Se invece estendiamo il discorso a tutta la stagione, comunque si salva ad esempio anche Teo Hernandez. Poi abbiamo Leao, Loftus, Renders, Ingiallo eccetera eccetera. Però diciamo che Leao soprattutto, che non segna da tantissime giornate, se non sbaglio 14 giornate in campionato, deve tornare al gol in campionato. Perché abbiamo visto, l'ultima giornata in campionato ha fatto assist, l'ultima in Coppa Italia ha segnato. Però adesso serve un bonus di Leao. Serve un Leao diverso in questo girono di ritorno se il Milan vuole in qualche modo provare a restare attaccato alle due davanti e soprattutto se il Milan vuole arrivare fino in fondo in Europa League. È una Roma che personalmente a me continua a non convincere sotto l'aspetto del gioco. Io credo che al di là di Di Bala questa Roma abbia comunque dei giocatori di una discreta qualità per fare meglio proprio a livello di gioco espresso, parlo di gioco offensivo, vediamo, vediamo. Io resto sempre molto negativo sulla Roma perché vedo delle cose buone ma vedo anche tante cose meno buone che secondo me in questo momento allontanano la squadra di Mourinho dalle prime quattro posizioni. Milan favorito, secondo me sarà una partita soprattutto nella prima parte abbastanza combattuta, non mi stupirei di vedere anche qualche cartellino di troppo, però ripeto per me tutto gira intorno alla presenza o all'assenza di Di Bala. Atalanta-Frosinone, Atalanta favorita. Atalanta vincente in Coppa Italia, mi aspetto uno scamacca titolare dopo che è stato in panchina sia in Coppa Italia che nell'ultima di campionato. Il Frosinone dietro è tutt'altro che imperforabile, Turati ultimamente abbastanza male. L'Atalanta ha ritrovato il miglior Coppa Miners nelle ultime giornate. A livello di esterni vedo comunque un po' di crescita, andiamo a vederlo anche sulle cinque medie vuoto che è più importante. Ruggeri è un po' sceso, Zappacosta secondo me invece sta un po' migliorando, piano piano si sta inserendo anche Olm. Colasi nace dietro, è ormai diventato un nome garanzia. Yen gradualmente secondo me diventerà un giocatore importante in questa Atalanta. E poi lì davanti senza Lukman, qui vediamo De Ketelare e Ederson, ma occhio anche a Miranciuk perché è un altro giocatore che secondo me può fare molto bene, ne abbiamo già parlato ieri. Il Frosinone è una squadra viva, è una squadra che gioca, è una squadra che crea, che segna, lo abbiamo visto in tante occasioni, ma è una squadra che subisce veramente troppo. Quindi ben venga Rui, ben venga Sule, però occhio dietro perché si rischia veramente... Ecco, questa rischia di essere una partita con diversi bonus. Frosinone ne ha perse 4 su 5, gioca, gioca bene, ma perde, pericoloso quando succede questo. L'Atalanta nelle ultime 5 ne ha vinte 3, persa 1, pareggiata 1. Partita da gol, secondo me, partita da over, Atalanta favorita. Andiamo a chiudere con Juventus e Sassuolo che sarà l'ultima partita di questa ventesima giornata, una partita che poi vedrà dopo i Fantastici 4 sul mio canale. Ci vediamo martedì sera insieme a tutti gli altri. Parleremo di quello che è successo in questa ventesima giornata, ma parleremo anche un po' di scambi, faremo un po' un punto della situazione, dato che sono un paio di settimane che non ci vediamo. Juve favorita, senza alcun dubbio, nonostante le assenze, probabilmente mancherà ancora una volta Chiesa, vediamo nei prossimi giorni quello che succede. La Juve, tra l'altro, ha ancora una partita di Coppa Italia da fare, quindi quello che sto dicendo ora poi magari non sarà più valido tra un paio di giorni, vediamo. Cambiasso comunque ha recuperato dalla febbre, ma al di là di chi giocherà lì dietro, secondo me, la Juve ha tutto per fare 3 punti contro questo Sassuolo. Berardi resta comunque un giocatore che si può schierare anche contro la Juve. La Oriente segnò il suo unico gol proprio contro Scesni, ricordiamoci che all'andata fu una partita molto particolare, quella della papera di Scesni, quella dell'autogol di Gatti, eccetera, eccetera. Però, ragazzi, finché la Juve ha questa solidità difensiva, io credo che sarà difficile vederla perdere questo tipo di partite. Magari non dominerà l'avversario, quello no, però, secondo me, anche senza chiesa, il tandem d'attacco, Ildiz e il ritrovato Vlaovic ha tutto per poter mettere in difficoltà la retroguardia del Sassuolo, soprattutto se, come spesso accade, nel secondo tempo entrerà il nostro Game Changer Ruan. Ragazzi, questo era quello che avevo da dirvi per queste 10 partite della ventesima giornata di campionato. Io vi saluto, vi ringrazio, mi raccomando like, mi raccomando iscrivetevi al canale. Ho già scritto, ho già pubblicato il palinsesto della giornata di oggi, di domani e di dopodomani, e vi ho anche ricordato che domenica è il mio compleanno, così anche se non c'entrava nulla. Dove l'ho fatto? L'ho messo nel gruppo Instagram, Broadcast, trovate il gruppo sulla mia pagina Instagram Profeta Fantacalcio, seguitemi lì. L'ho messo nel canale WhatsApp, oggi vi rimetterò il link anche del canale, nel canale WhatsApp aperto a tutti e poi ovviamente nel canale Telegram aperto a tutti, anche di questo, trovate il link nella sezione Community su YouTube. Io vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo al prossimo video o ci vediamo oggi in live. Oggi ci saranno quattro live. Live, piattaforma viola, con i ragazzi di FantaTV Play, poi con fantacalcio.it, live Twitch sul mio canale dedicato agli scambi e poi a seguire qui su YouTube per parlare di scambi, per parlare di dubbi di formazione domani e sabato mattina. Grazie mille, ciao a tutti e alla prossima. Ciao. Ciao.